Partiamo dalla liete. Anche oggi non sarete di ottimo umore o meglio, vi sveglierete tranquilli, ma vi basterà il primo confronto con il mondo esterno per farvi venire subito la voglia di tornare a letto. Toro, non avrete nessuna voglia di modificare le vostre collaudate abitudini e farete resistenza verso qualsiasi cambiamento, anche piccolo piccolo. Sul lavoro sceglierete sempre strade conosciute, nel privato preferirete il solito ristorante. Gemelli, potrete approfittare di un'ottima giornata dove potrete dire e fare quello che vorrete, riuscirete sempre a risultare simpatici e interessanti, anche quando non saprete bene che pesci pigliare. Cancro, dovrete armarvi di una buona dosi di pazienza da utilizzare già nelle prime ore del giorno, quando scoprirete che il caffè o il tè è finito. Leone, sarà una piacevole giornata nella quale avrete abbastanza cose da fare, da rimandare i pensieri meno positivi a un'altra volta. Sul lavoro dovrete muovervi rapidamente. Vergine, la vostra giornata sarà come avevate programmato, senza imprevisti o novità più o meno gradevoli a modificare i vostri programmi. E sarà piuttosto rassicurante poter contare sulle solite battute dei colleghi. Bilancia, ottima giornata, senza note sgradevoli che turbino il vostro buon umore. Sul lavoro sarete soddisfatti di come stanno andando le cose. Nel privato riuscirete a organizzarvi come desiderate. Scorpione, oggi non avrete molta voglia di affrontare le classiche incombenze del weekend, ma non potrete sottrarvi. Comincerete con lo svegliarvi più in ritardo del solito e dimenticare qualcosa di fondamentale da mettere nella spesa settimanale. Sagittario, anche oggi potrete godere di una giornata tutto sommato piacevole in cui, per un motivo o per l'altro, sarete sempre circondati da persone, sia a casa che sul lavoro. Capricorno, sabato decisamente poco divertente il vostro. Ci saranno compiti ai quali non riuscirete a sottrarvi anche se ne avrete poca voglia. Lavori sgradevoli, persone poco simpatiche a cui sorriderete con forze. Acquario, oggi potrete godervi una giornata piacevole dove tutto andrà secondo i vostri desideri. Qualsiasi cosa abbiate in programma, sul lavoro otterrete facilmente i vostri obiettivi e nel privato farete solo quello di cui avrete voglia. Pesci, cercate di chiarirvi bene le idee su quello che avete o non avete da fare, altrimenti riuscirete a ciondolare tutto il giorno per casa o per l'ufficio senza concludere nulla. In caso di shopping o di spese di altro tipo, ragionate almeno due minuti prima di aprire con entusiasmo i portafogli.